Nella domenica di Pasqua, nella Resurrezione del Signore, Papa Francesco ha presieduto sul Sagrato della Basilica Vaticana la solenne celebrazione della Messa del Giorno. Alla celebrazione iniziata con il rito del Resurrexit hanno partecipato molte decine di migliaia di fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Il Papa non ha tenuto l'omelia poiché alla Messa fa seguito la benedizione Urbia Torbi con il messaggio pasquale, con l'annuncio al mondo di trovare la pace nel nome di Cristo risorto. La piazza San Pietro era stata decorata con migliaia di fiori dall'Olanda e come consuetudine erano presenti picchetti militari d'onore della Guardia Svizzera e delle forze armate italiane.